L'abbazia di San Leo si trova a Bitonto presso la villa comunale. Fu una fondazione voluta dai benedettini nel IX secolo che passò poi ai monaci cistercensi nel 1400 e quindi agli olivetani. Dopo le soppressioni napoleoniche e quelle eseguite all'unità d'Italia nel 1892 vi si stanziarono i francescani. Le strutture sono state restaurate nel tentativo di riportarla all'antico splendore dopo interventi non sempre giustificati. Il campanile mostra ancora ben evidenti le sue strutture trecentesche mentre è raccomandabile la visita al chiostro che fu costruito nel 1500 dopo l'insediamento dei cistercensi. Chi vorrà visitare la chiesa troverà un bell'interno a navata unica in cui la luce penetra da belle monofore ogivali. Sulle pareti dell'abside quadrangolare rimangono tuttora affreschi trecenteschi bizantineggianti. Interessante è il giudizio universale che sta nella parete di fondo.